Auguri di Natale a tutti i medici che con grande passione continuano a curare e a prendersi cura dei cittadini, dei malati. Auguri a tutte le professioni sanitarie che insieme con noi sono i veri garanti del diritto alla salute e lo fanno giornalmente con dedizione e generosità. Auguri a tutti i malati, a loro va il nostro più sentito ringraziamento per quello che fanno per la professione medica perché la loro vicinanza, il loro affidarsi ai professionisti, ai medici è la migliore medicina per consentire a noi di poterli curare. Auguri un po' a tutti i cittadini perché difendano questo servizio sanitario nazionale, un bene prezioso perché li considera tutti uguali davanti alla salute, diversamente da quello che avviene in altre parti del mondo. Difendiamolo questo sistema perché veramente è l'attuazione di quell'articolo 32 che considera la salute un bene fondamentale di tutti. Grazie.